In azione il nucleo di polizia giudiziaria dell'Unione Pedemontana, il setaccio, lavori di ristrutturazione e riqualificazione di mobili nei comuni di Collecchio, Felino, Monte Chiarugolo, Salabaganza, Traversetto, Llesignano, Bagni. Controlli attenti che hanno portato al rilievo di diversi casi di abuso edilizio. Nei guai sono così finiti i proprietari, imprese edile e tecnici che in qualità di direttori dei lavori avevano sottoscritto false asservazioni per certificare una regolarità che non c'era. In tutto denunciate ben 11 persone con sanzioni amministrative per un totale di oltre 400 mila euro, ma si indaga anche per truffa. I casi più clamorosi sono la realizzazione di due appartamenti in una mansarda non abitabile oppure la trasformazione senza alcuna autorizzazione di una stalla nuova di zecca con una cinquantina di bovini registrati, un grande finile, in un lussuoso B&B. Particolarmente pesante è proprio la posizione del titolare di questa attività che dalla struttura agricola aveva ricavato una decina di stanze finemente arredate. La struttura recettiva era già stata sanzionata in occasione dell'operazione Bad in Bed, condotta sempre dagli agenti della Polizia Locale dell'Unione alla fine del 2019, che aveva accertato l'esercizio abusivo di diverse attività, tra cui quella in questione, da allora nuovi controlli e la scoperta pure dell'abuso edilizio.